E' stata al momento rinviata a febbraio l'ipotesi di limitare il traffico in un'area di Pastena. Al secondo appuntamento di confronto sulla pedonalizzazione nella zona orientale della città, questa mattina a Palazzo di Città, l'assessore al commercio Dario Loffredo, insieme all'assessore all'urbanistica e alla mobilità Mimmo De Maio, al consigliere comunale che ha proposto l'isola pedonale Fabio Polverino e al comandante della polizia municipale Elvira Cantarella, hanno deciso di rinviare qualsiasi chiusura dopo il periodo legato al lucido artista. La riunione, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA, CLAI, CIDEC e Confesercenti, si è dunque conclusa rinviando tutto a dopo febbraio. Al termine dell'incontro è stato infatti deciso di attendere le valutazioni tecniche che saranno affidate all'assessore De Maio e al comandante Cantarella, che esamineranno nello specifico la fattibilità della proposta. Il comandante Cantarella e l'assessore De Maio ci hanno spiegato che per una questione tecnica la cosa non è fattibile, quindi l'esperimento e al vaglio lo studio di questa amministrazione per un periodo dopo febbraio. Crediamo però che non deve essere solo una cosa per pochi weekend, ma dovrebbe essere una cosa permanente per dare la possibilità alle persone di abituarsi all'idea. Quindi tecnicamente ora la Cantarella e l'assessore De Maio si studiavano la problematica per contemplare tutte le esigenze, che non è solo quella dei commercianti che a me mi sta a cuore, ma anche delle scuole, delle chiese, dei residenti e altro, e ci rivediamo per parlare. Il mio plazo va comunque alle associazioni di categoria, devo dire, perché sto facendo un percorso con loro molto preciso, chiaro e mi sento di ringraziarle tutte, perché da tutte ho la grande disponibilità e un senso di propositivo e di concretezza.